come va e bentornati sul mio canale prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attirare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità come vi dico sempre nei video come questi mettetevi comodi prendetevi una bibita perché abbiamo da parlare di un po di cosine e ho preso vi porterò qui all'interno di questo video alcune novità e tanti aggiornamenti di questa settimana che cosa succederà arriveranno nuovi accrediti nuovi bono cioè insomma ci sono un po di notiziole molto molto interessanti quindi partiamo subito con la prima notizia che fare se il credito del reddito di cittadinanza del 27 non è stato ancora pagato questa domanda che ultimamente ricevo spesso il giorno 27 sono iniziati gli accrediti del reddito di cittadinanza e comunque i pagamenti andavano avanti fino alla fine del mese perché le poste avevano tempo fino all'ultimo giorno del mese per terminare tutte le ricariche del reddito di cittadinanza ma ci sono stati mesi in cui questa regola non è stata proprio presa alla lettera diciamo ecco così se dal primo del mese non arriverà la ricca a partire dal primo del mese non è ancora arrivata la ricarica del reddito di cittadinanza allora avrete bisogno di andare in una sede provinciale dell'inps per capire che cosa potrebbe essere successo probabilmente ci sono stati dei problemi con la vostra pratica quindi nulla di che preoccupante e non è detto che si tratta di una revoca ma per esempio potrebbe e dico potrebbe essere il caso che ci sia stata una sospensione magari per delle verifiche su altri dati reddituali o patrimoniali e l'unico modo per capire che cosa potrebbe essere successo è parlarne direttamente con i responsabili o i dipendenti all'interno dell'ufficio dell'inps inoltre un altro sistema molto rapido per avere per avere una risposta da parte dell'inps è quella di inviare una segnalazione tramite il sito internet con il servizio che si chiama in se risponde io l'ho utilizzato quel sistema e vi posso dire che più o meno funziona abbastanza bene ecco sempre più spesso si sente parlare di reddito di base universale ma che cos'è me lo state chiedendo in tantissimi vi dico che una proposta europea che vorrebbe garantire una certa previdenza a livello sociale che servirebbe a combattere le diseguaglianze il reddito di base universale ha come punto di partenza quello di essere universale primo e quindi non ci sarebbero limiti o requisiti di reddito personale o familiare neanche reddituale a quanto pare possiamo dire che non assomiglia per niente al reddito di cittadinanza perché il reddito di base europeo supera i mille mille cinquecento euro e poi come dicevo prima per riceverlo non c'è bisogno di avere determinati requisiti e non bisogna nemmeno fare domanda il reddito di base europeo si basa su cinque criteri che adesso vediamo primo è universale proprio così universale perché viene pagato a tutti i cittadini senza bisogno di particolari requisiti non ci sono limiti di reddito di risparmio o di valore patrimoniale e questo vuol dire che ogni persona ha il diritto a riceverlo sufficiente proprio così sufficiente perché l'importo deve consistere consentire scusate un tenore di vita dignitoso quindi l'europa dovrebbe prevenire la povertà e quindi pare a questo punto che vogliono garantire un importo che sia superiore alla soglia di povertà quarto punto individuale perché chiunque ha diritto a riceverlo indipendentemente dallo stato civile quindi se abita in una famiglia con tante persone con poche persone se si è single sposati insomma questi discorsi qui ultimo punto il quinto incondizionato in quanto è considerato un diritto umano e non obbligatorio e non obbligatorio a svolgere un lavoro quindi non c'è bisogno di lavorare per poter mantenere il diritto a riceverlo e sarebbe comunque garantito in tutta l'europa ad oggi che io sappia c'è solo un paese che sta facendo l'esperimento attenzione è un esperimento del reddito europeo ed è il galles si dice appunto che a partire dal primo di luglio il governo ha offerto a un gruppo di 500 ragazzi che sono intenzionati a lasciare casa e hanno compiuto 18 anni di età la possibilità di ricevere 1700 euro al mese per un anno ovviamente come ho detto questo è solo un esperimento e serve per vedere non solo se la cosa è fattibile ma anche quali saranno poi le conseguenze sociali di questo pagamento tra l'altro appunto ne avevo già parlato in un altro video è un iscritto del mio canale che si chiama massimo ha commentato così e questa risposta mi sembra abbastanza coerente e lui ci dice adesso ve lo leggo proprio alcune precisazioni sul progetto pilota del galles è rivolta a 518 anni che escono dall'affidamento care leavers riceveranno 1600 sterline lord al mese per due anni si tratta dell'importo più alto offerto in un programma di reddito di base in tutto il mondo l'importo sarà incondizionato e non verrà ritirato se i partecipanti troveranno un lavoro lui dice fonte basic income wales pilot offer su mille 1600 sterline amont care lives fonte bbc news con la crisi di governo che c'è in questo momento torna alla ribalta la proposta che era già stata fatta qualche tempo fa da giorgia meloni di fratelli d'italia la sua proposta sarebbe quella di sostituire il reddito di cittadinanza con il nuovo reddito di solidarietà dal 2023 con un assegno fino a 650 euro a famiglia ma solo per chi ha un ise basso come funziona lo vediamo adesso un assegno quindi per le famiglie con figli o con disabili a carico il reddito di cittadinanza è sempre stato nel mirino di tantissimi partiti politici ne stiamo al corrente renzi eccetera 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 perché viene considerato come una misura che si presta ad abusi ea eccessive spese a carico a carico del bilancio dello stato ecco così come vi ho detto prima fratelli d'italia ha presentato in legge di bilancio un emendamento per introdurre l'assegno si chiama proprio così assegno di solidarietà che sarebbe rivolto ai nuclei familiari in cui sia presente alternativamente almeno un anziano un minore o un disabile l'importo dell'assegno e di 400 euro mensili aumentati a 250 euro per ogni ulteriore componente ultra sessantenne quindi con più di 60 anni minore o disabile per poter ottenere il reddito di solidarietà 2023 e quindi separare 2022 ma del prossimo anno occorrerebbe a questo punto avere dei requisiti che adesso vediamo non possedere un altro reddito familiare un patrimonio mobiliare non immobiliare ma mobiliare massimo di 10 mila euro essere titolari di un solo immobile e comunque non di lusso avere un isè inferiore a 15 mila euro e poi avere la residenza in italia da almeno dieci anni l'assegno di solidarietà o reddito di solidarietà non so chiamatelo come volete potrebbe arrivare nel 2023 come vi ho detto prima in sostituzione al reddito di cittadinanza e i soldi i soldi per poterlo finanziare potrebbero essere gli stessi previsti per il finanziamento del reddito di cittadinanza fino al 2029 perché ne avevamo già parlato anche in una diretta live il reddito di cittadinanza comunque rimarrà fino al 2029 dopodiché sarà la politica e governanti che decideranno che cosa succederà fino quindi comunque dal 2000 al 2000 dal 2022 al 2029 per adesso non ci sono problemi l'altro articolo di oggi è questo è contenuto nel testo del decreto legge aiuti e un sostegno economico una tantum per chi nel 2021 ha lavorato con contratti part time e in modo non continuativo quindi oltre al bonus da 200 euro che potrebbe essere riproposto anche nei prossimi mesi nonostante le dimissioni di draghi è stato previsto un bonus da 550 euro si tratterebbe di un contributo una tantum a favore di quei lavoratori con un contratto di lavoro part time quindi diciamo che sono buone notizie che sono che stanno arrivando perché c'è un nuovo aiuto economico che aiuta e sostiene chi lavora con dei contratti part time e solo in alcuni periodi dell'anno quindi va a coprire una determinata fascia di persone con determinati tipi di contratti lavorativi questo è l'obiettivo del bonus 550 euro contenuto proprio nel decreto legge aiuti diventato un provvedimento definitivo dopo l'ok da parte del senato il bonus 550 sostanzialmente consiste in un contributo una tantum ve lo ripeto una tantum a favore di quei lavoratori con un contratto di lavoro verticale ciclico come che io non sono un consulente del lavoro se volete sapere esattamente che cosa sia un lavoro verticale ciclico io vi consiglio di prendere un appuntamento dal vostro caff e di farvi spiegare come funzionano i contratti di lavoro chi lo richiederà chi potrà richiederlo non deve avere un rapporto di lavoro dipendente e nemmeno percepire dei trattamenti di disoccupazione o pensionisti c il bonus era già stato previsto nella legge di bilancio del 2022 la quale però si era limitata a stanziare solo i fondi necessari in questi giorni tra l'altro sono state rivelate alcune importanti informazioni relative alla modalità di accesso al beneficio e per poterlo ricevere dovrà essere lo stesso lavoratore a inviare una domanda direttamente all'inps quindi non aspettatevi che l'inps vi chiami per dirvi guarda devi prendere qui questo bonus ovviamente l'inps poi nei prossimi giorni dovrà comunicare i dettagli su come e quando si potrà inviare la domanda ad ogni modo vorrei solo segnalare che i fondi stanziati per il buono dal 550 euro sono comunque limitati quindi appena sarà possibile bisognerà inviare subito subito la domanda e appena ci saranno delle novità ve lo farò sapere immediatamente con un nuovo video quindi ad oggi ancora non si può fare domanda non si può richiedere e quindi siamo in attesa lo dico solo perché poi magari qualcuno me lo chiede e per non stare a rispondere singolarmente a tutti quanti ve lo dico già all'interno del video diciamo che con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo come sempre di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento un nuovo video sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio vi aspetto ciao